La vita contadina, l'odore dei prodotti tipici dei campi, il mugito delle vacche, la bontà della cucina a chilometro zero. Sul lungomare di Napoli, dal 24 al 26 novembre, il villaggio contadino della Coldiretti, all'altezza della Rotonda Diaz per tre giorni, il meglio della produzione italiana in occasione dell'anniversario dello storico riconoscimento unesco della dieta mediterranea, come patrimonio culturale e materiale dell'umanità, dal novembre 2010. A tenere a battesimo la manifestazione per la prima volta in città, l'assessore alle attività produttive del Comune di Napoli, Enrico Panini. Quel villaggio è un villaggio a chilometro zero, ovvero vicinissimo ai luoghi di produzione e quindi di nuovo una forte attenzione al tema dell'identità e della qualità dei prodotti. Mangiare italiano, mangiare napoletano è un valore aggiunto in più. Nei tre giorni napoletani ci sarà tanto ottimo cibo della dieta mediterranea, con tutti i menù a 5 euro preparati dagli agri-chef contadini. Per i visitatori tanti prodotti made in Italy, i sapori antichi della tradizione, dalla carne 100% italiana alla pizza realizzata con prodotti tricolore. Così il vicepresidente di Coldiretti nazionale, Gennarino Masiello. Un villaggio mai realizzato in questa città, ma soprattutto nel paese, è un orgoglio poter ospitare questa iniziativa, dove potremo insieme ai cittadini, non solo gli adulti, ma anche i bambini, godere di queste tre giorni delle emozioni e dei valori che riusciremo a trasmettere. Porteremo qui l'agricoltura, la migliore agricoltura di questo paese, in questa città, sotto gli occhi dei nostri cittadini.